La storia in cucina di Massimo Montanari Un punto di svolta fondamentale nella storia dell'alimentazione europea si colloca a metà dell'Ottocento quando profondi cambiamenti nel modo di mangiare e più in generale nel modo di vivere vengono innescati da quel complesso, gigantesco fenomeno di trasformazione a cui diamo il nome di rivoluzione industriale Nei decenni precedenti, cioè sul finire del Settecento e gli inizi dell'Ottocento le condizioni di vita e di alimentazione dei ceti popolari europei avevano toccato probabilmente il punto più basso o comunque uno dei più bassi della storia La battaglia contro la fame aveva conosciuto qualche successo grazie alla rivoluzione agraria grazie alla introduzione o diffusione di nuove colture come il mais o la patata ma a costo anche di peggioramenti qualitativi dell'alimentazione e anche a costo della diffusione di malattie come la pellagra legata al consumo ossessivo di polenta di mais da parte di molti contadini Tuttavia, in generale, verso la metà dell'Ottocento le cose cominciarono a cambiare anche se non dappertutto nello stesso modo Cominciarono a cambiare perché non solo i ceti borghesi ma un po' alla volta anche le classi popolari cominciarono a trarre qualche vantaggio dalla trasformazione produttiva e tecnologica indotta dalla rivoluzione industriale Il settore alimentare ebbe un legame diretto con questa rivoluzione e i cambiamenti più importanti si situarono su due fronti Il primo fu che i rinnovamenti nel settore agrario legati anche all'utilizzazione dei fertilizzanti chimici e alla rivoluzione dei trasporti regero possibile alla maggior parte della popolazione un lusso che per molto tempo era stato riservato a pochi e cioè il fatto di poter consumare pane bianco la farina di frumento, il pane bianco erano stati fin dal Medioevo un lusso, uno status simbolo del privilegio sociale al punto che uno storico francese Fernand Brodel ha definito questa trasformazione una vera rivoluzione del pane bianco che significò un calo di importanza dei cereali inferiori nella dieta contadina a parte quelle campagne particolarmente povere anche dell'Italia del Nord dove si continuò fino al Novecento a mangiare soprattutto mais il secondo momento importante di questo cambiamento delle abitudini alimentari è la crescita progressiva dei consumi di carne che nei secoli precedenti erano quasi scomparsi dalla dieta dei ceti popolari elemento fondamentale della rivoluzione alimentare dell'Europa ottocentesca furono i progressi nel campo agricolo progressi legati essi stessi in maniera molto chiara, molto diretta alla rivoluzione industriale in quanto le macchine prodotte dall'industria meccanica macchine agricole, macchine da lavorare i campi seminatrici, metitrici, trebbiatrici che vennero impiegate in misura crescente nel lavoro dei campi consentì di sostituire l'energia umana e l'energia animale aumentando la produttività aumentando la resa del lavoro e poi ci fu, secondo capitolo importante di questa trasformazione la diffusione dei fertilizzanti chimici e degli anticrittogramici sono parole che oggi ci suonano un po' scure un po' inquietanti ma al di là dei danni che in epoca recente l'abuso di questi prodotti ha recato non solo al suolo ma anche all'ambiente e alla nostra salute in fin dei conti non deve farci dimenticare che c'è stato un momento in cui l'invenzione di questi farmaci come potremmo definirli ha consentito all'agricoltura di superare un limite che da sempre la caratterizzava e cioè la totale dipendenza dalla situazione climatica e ambientale per millenni la scarsità di concime di concime animale ovviamente l'unico utilizzato in agricoltura era stata la causa principale dei bassi rendimenti dei campi in parte le trasformazioni agrarie del Settecento avevano cominciato a avviare una soluzione del problema inserendo le foraggere in rotazione con i campi e integrando più strettamente quindi l'attività agricola con l'allevamento del bestiame quindi accrescendo la disponibilità di concime ma il salto tecnologico che avviene nell'Ottocento è decisamente più forte l'invenzione dei concimi chimici legata principalmente agli studi di Liebig mise a disposizione una quantità di fertilizzanti potenzialmente illimitata con risultati sorprendenti sul piano produttivo risultati appunto come dicevo un attimo fa non senza contraddizioni e non senza controindicazioni che si sarebbero poi viste nel tempo le ricerche di Liebig furono poi completate da quelli di altri studiosi come Solvay che inventò gli anticrittogamici sono un po' i pionieri della chimica agricola e della industria agricola moderna se i progressi in campo agrario legati all'introduzione delle macchine e legati all'introduzione dei concimi chimici furono la base di quella rivoluzione che aumentò la disponibilità di cereali per la popolazione europea dell'Ottocento l'aumento dei consumi di carne seguì soprattutto altre vie e si collegò principalmente a quella che gli storici chiamano la rivoluzione dei trasporti fino alla metà del secolo XIX come avveniva da sempre gli animali da macello continuavano come in passato ad essere condotti vivi dai luoghi di allevamento ai centri di consumo erano lunghe camminate carovane di animali che li sfinivano compromettendo anche la qualità e il peso delle bestie a cominciare grossomodo dal 1850 la rivoluzione del sistema di trasporto cioè l'invenzione della ferrovia significa che questi animali possono cominciare ad essere trasportati con mezzi meccanici e non solo come animali vivi ma anche come animali già pronti per la conservazione grazie a un secondo fondamentale elemento che è l'invenzione del frigorifero altro momento decisivo di questa rivoluzione alimentare dell'ottocento queste tecniche di congelazione di refrigerazione messe a punto nella seconda metà del secolo a un certo momento permisero anche di importare carne da lontano da oltreoceano da regioni lontane come gli Stati Uniti l'Argentina l'Australia la Nuova Zelanda dove spazi enormi erano utilizzati dagli europei per l'allevamento del bestiame e diventano vere e proprie dispense alimentari per i consumi europei quindi navi a vapore più veloci più solide navi a vapore su cui erano impiantati dei sistemi di refrigerazione della carne attraversano gli oceani e cominciano a fornire ai consumi del vecchio continente una quantità di carne e anche di pesce come mai si era avuto in passato e comincia qui l'economia mondo il trasporto della carne e del pesce a lunga distanza che è uno dei segreti della rivoluzione alimentare che avviene in Europa nel corso dell'Ottocento presupponeva la possibilità di conservare a lungo queste derrate durante tragitti che avvenivano sugli oceani che per quanto resi più rapidi dalle nuove navi a vapore duravano pur sempre parecchie decini di giorni quindi da questo punto di vista fu fondamentale l'invenzione della macchina frigorifera che fu brevettata nel 1851 da un americano di nome John Gorrie sono personaggi di solito ignorati dai manuali di storia e che probabilmente meriterebbero più attenzione il freddo come conservante era impiegato da sempre non è certamente questa una scoperta dell'Ottocento conserve sotterranee in cui d'inverno si raccoglievano neve ghiaccio per poi poterli utilizzare in altre stagioni esistevano in molti palazzi in molte case signorili in residenza di campagna e anche in alcune città erano dei magazzini del freddo a disposizione dei cittadini una del più celebri forse perché enorme è quella di Parigi che fu costruita ancora nel 1857 proprio negli stessi anni in cui si stava inventando il frigorifero e fu costruita proprio allora a Parigi una conserva sotterranea in grado di immagazzinare 10 milioni di chilogrammi di ghiaccio quindi è un po' il punto di arrivo macroscopico di una storia antica cioè l'uso del freddo del freddo naturale della neve del ghiaccio ai fini di conservazione degli alimenti ma a questo punto cioè a metà dell'Ottocento comincia una storia nuova l'invenzione del frigorifero l'impianto del frigorifero su un piroscafo che avviene nel 1876 ad opera di un francese di nome Tellier il piroscafo fu chiamato significativamente frigorifique che trasporta in Francia un carico di carne macellata in Argentina dopo un viaggio di 105 giorni per dare un'idea di come poteva essere il senso della distanza poco più di un secolo fa eppure la carne dopo 105 giorni di viaggio arriva e può essere consumata ecco quindi un altro grande segreto di questa rivoluzione alimentare la conquista del freddo l'arte di conservare tutte le sostanze animali e vegetali è il titolo di un manuale pubblicato nel 1810 dal francese Apert che è un personaggio fondamentale nella storia dell'alimentazione perché a lui si deve l'invenzione dell'industria conserviera cioè del cibo in scatola in realtà Apert usava dei contenitori di vetro solo nei decenni successivi questa arte di sigillare il cibo di bollirlo dentro un contenitore si sarebbe sviluppata nel senso della scatoletta che ancora oggi conosciamo e che in Italia ebbe sul finire del secolo un grande protagonista nel torinese Francesco Cirio che cominciò come esportatore di prodotti freschi poi finì come fabbricante di piselli in scatola e poi di pomodori che comperava nel napoletano e inscatolava a Torino ecco tutte queste trasformazioni legate all'industria conserviera da un lato e all'uso del freddo come agente conservatore segnano un momento fondamentale nella storia dell'alimentazione e anche un cambiamento importante nella storia del gusto perché per la prima volta le nuove tecniche di conservazione consentono di conservare nei limiti del possibile il gusto naturale degli alimenti in fondo tutte le tecniche tradizionali dalla salatura al mettere in alcol al mettere sotto zucchero al mettere sotto aceto trasformavano il sapore e il gusto dei prodotti naturali le nuove tecniche consentono in qualche modo di mantenerli naturali è forse un discorso che può sembrarci strano ma l'industria alimentare ottocentesca l'industria della cibo in scatola l'industria del freddo si auto presentarono sul mercato voglio dire nella pubblicità come una nuova rivoluzionaria possibilità per tutti i consumatori di utilizzare finalmente alimenti naturali di